E' aperto il bando di concorso per la decima rassegna musicale DSU L'Aquila, l'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila in collaborazione con il laboratorio culturale Dietro le Quinte promuove la decima edizione della celeberrima rassegna musicale. In premio un buono da 1200 euro da spendere a fini artistici e promozionali. La rassegna si ricorda è aperta a singoli artisti o a gruppi musicali emergenti con almeno all'interno un componente iscritto ad una facoltà dell'Ateneo dell'Aquila, al Conservatorio Casella o all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. La richiesta di partecipazione deve pervenire necessariamente entro lunedì 2 maggio all'indirizzo decima rassegna musicale DSU L'Aquila, azienda per il diritto agli studi universitari Palazzina D presso ex caserma Campo Mizi 6700 L'Aquila. La busta dovrà essere chiusa e contenere come richiesta di partecipazione, oltre alle generalità anagrafiche, al curriculum, al repertorio, il recapito del referente, ma anche una registrazione demo su CD contenente almeno 4 brani propri o cover, oltre a una scheda tecnica del gruppo. La giuria, nominata dalla DSU e dall'Associazione Culturale Dietro le Quinte, esaminerà le candidature e selezionerà tre gruppi che si esibiranno nel concerto finale del concorso che si svolgerà lunedì 16 maggio alle ore 21 presso il ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. La produzione di brani propri ed inediti sarà titolo preferenziale nella selezione delle candidature. Durante il concerto ciascuno dei tre gruppi avrà a disposizione un tempo massimo di 30 minuti per l'esibizione. La giuria a fine concerto sceglierà il vincitore che si aggiudicherà il premio da 1200 euro da utilizzare a fini artistici e promozionali e comunque tutti i gruppi riceveranno una targa ricordo e la registrazione video del concerto finale. La partecipazione alla rassegna musicale è totalmente gratuita, così come gratuito è anche l'ingresso al concerto conclusivo.